passo indietro, Amadeus è stato forse per me esageratamente messo in croce. Una volta per tutte vorrei dire che sono due aspetti, chiamiamole due gaff, che hanno un peso completamente diverso, perché questa uscita, che sicuramente può riportare ad un modo stereotipato di vedere la donna che sta dietro l'uomo, ci può stare che sia stata una battuta detta male, quindi io non focalizzerei l'attenzione su questa battuta, penso che sia un peccatino veniale, il peccato, quello grosso, è invece non aver preso una posizione precisa rispetto al testo di un artista che nessuno, chiamolo così, conosceva, perché il mio... Di cui noi tra poco parleremo. Eh, però voglio dirti, io non sapevo niente come il 99% degli italiani e sono andata su... Per te dovrebbe essere escluso Junior Kelly, diciamo? Ma per me bisognerebbe rispettare la sensibilità di tutte le persone che si sono sentite offerte in un paese, le donne, in un paese in cui c'è un'emergenza femminicidio, siamo a sette donne uccise in una settimana e migliaia di sportelli antiviolenza che lavorano 24 ore su 24 perché le donne uccise sono quelle di cui si parla, le altre che subiscono violenza. Allora... Eh...